Amici di Calcio Napoli 24, siamo a 20 minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Atalanta, non manca ormai troppo all'inizio del match, 20 minuti alle ore 18, ma come vedete ci sono ancora tantissimi tifosi in fila all'esterno della curva B, probabilmente anche lunghi controlli e lunghe file di tifosi che sono arrivati tutti più o meno allo stesso orario, generando ancora tanta fila per l'ingresso nella curva B superiore, in questo accesso qui, quello più vicino alla tribuna, un accesso che di solito è riservato ai abbonati, ma chiaramente essendoci tanta ressa per entrare nella curva B superiore, anche questo doppio ingresso allora è stato aperto a tutti i tifosi che avevano un biglietto in curva B e quindi non soltanto destinato ai abbonati e come vedete c'è ancora tanta tanta fila per entrare allo stadio Maradona in curva B superiore.